Il comune di Bovalino torna al centro delle polemiche. Il Ministero dell'Interno ha infatti certificato il mancato utilizzo delle risorse assegnate per l'anno 2023 dal Fondo di Solidarietà Comunale, destinate al potenziamento degli asili nido e al trasporto scolastico degli studenti disabili. Il gruppo consigliare Siamo Bovalino aveva già lanciato l'allarme mesi fa denunciando l'inerzia dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maesano. Oggi la vicenda assume contorni ufficiali con il sindaco nominato commissario straordinario per sanare le criticità entro 60 giorni. Già nel dicembre 2023 Siamo Bovalino aveva portato in Consiglio Comunale una mozione per impegnare i fondi destinati al trasporto scolastico disabili. La proposta prevedeva l'erogazione di voucher alle famiglie per coprire spese essenziali come carburante e manutenzione dei mezzi, ma fu respinta. Filippo Musitano, presidente del Consiglio Comunale, decise di escludere la mozione dall'ordine del giorno. Durante una sospensione dei lavori l'amministrazione tentò in estremis di avviare procedure per l'impiego delle risorse, ma senza successo. Il comunicato del 12 novembre scorso del Ministero dell'Interno è chiaro. I comuni inadempienti dovranno sanare la situazione entro 60 giorni o sarà nominato un commissario prefettizio. Tra le risorse inutilizzate da Bovalino spiccono oltre 100 mila euro per asili nido, fondi che avrebbero potuto abbattere le rette e promuovere l'accesso ai servizi fondamentali per le famiglie. A questi si aggiungono i quasi 7 mila euro per il trasporto scolastico disabili, risorse fondamentali per garantire pari opportunità agli studenti con disabilità. Non è la prima volta, continua nel gruppo Siamo Bovalino, che la città perde importanti finanziamenti. I fondi per i centri estivi mai utilizzati, con 200 mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici svaniti per mancanza di progettazione. Un milione di euro per la costruzione di un asilo nido in via Ternicola, recuperato solo in parte con una perdita di oltre 200 mila euro. Il gruppo consigliare Siamo Bovalino avanza soluzioni concrete per invertire la rotta, voucher per il trasporto scolastico disabili, destinando immediatamente i fondi alle famiglie per coprire le spese sostenute e la promozione degli asili nido con campagne informative per stimolare la domanda. L'ultimatum poi del Ministero è chiaro, se l'amministrazione non riuscirà a sanare le criticità entro 60 giorni, un commissario prefettizio sarà incaricato di gestire la situazione. E intanto i cittadini di Bovalino attendono risposte concrete.